Telefonica non ha nessun interesse a rilanciare e a rendere strategica la propria partecipazione in Telecom. Non ce l'ha. Non ce l'ha perché le due aziende sono concorrenti in troppi mercati e in troppi paesi. Non ce l'ha perché è molto indebitata. Non ce l'ha perché non voleva intervenire. Da questo punto di vista, se si lasciasse correre la soluzione fino all'estremo, noi avremmo un'azienda in cui l'azionista di riferimento non avrebbe nessun interesse a mettere investimenti e risorse. Con il risultato di cedere due partecipate in Sud America, sulle quali Telefonica agisce in condizioni di concorrenza. Non va bene Telefonica per questo, non perché è spagnola, non perché è un'altra azienda di telecomunicazioni, ma perché non c'è nel suo interesse quello di rilanciare l'identità e il futuro di Telecom. E quindi da questo punto di vista tutto quello che si può fare per riportare razionalità a scelte proprietarie e scelte di investimento io credo che debbano essere fatte. Con due avvertenze. C'è visibilmente nei meccanismi odierni dell'OPA qualcosa che non va, qualcosa che non funziona, qualcosa che ancora una volta fa pagare ai piccoli azionisti il peso delle decisioni dei grandi istituti di credito. Non va che Telefonica non metta soldi e risorse nell'aumento di capitale e non va che la rete, il cuore del problema della strategia industriale, possa essere messa in discussione. Le decisioni che il Governo sta prendendo da questo punto di vista vanno tutte nella giusta direzione, ma gli strumenti servono se c'è una strategia, gli strumenti si usano se c'è un'idea, gli strumenti si usano se c'è una politica di contesto entro quali quegli strumenti possono avere un senso o un altro senso.